Carlo Ferrigni, sei un piccolo di età, diciamo, pilota molisano, corri con il kart, stai facendo il campionato UMA. Spiegaci un po' che cos'è. Nel questo campionato si partecipa a tre regioni, Umbria, Marche e Abruzzo. Ci sono in tutto otto gare del campionato. La prima gara si è fatta in Abruzzo a Magliano dei Marzi, poi ho corso a Santa Maria dove ho vinto, in Molise, e l'ultima si è fatta a Rieti, nel Lazio, e sono arrivato decimo. Adesso sei secondo nel campionato, stai andando bene. Sì, sono con 88 punti. Il prossimo, diciamo, tra virgolette, gran premio, se vogliamo chiamarlo così? Sarà il primo luglio a Corridonia, nelle Marche. Allora Carlo, ti faccio questa domanda. È uno sport particolare, devi essere appassionato, possiamo dire, di motori. Sì, cioè, devi essere appassionato, se no, cioè, ti deve piacere come sport, se no, non ci metti neanche impegno, cioè, devi impegnarti con questo sport. Questo è uno sport, poi, che, a parte piacere e passione, deve essere anche un po' dispendioso di, anche di denaro, perché comunque è costoso. Sì, cioè, le gare costano e poi costano anche se vuoi mettere le gomme nuove, poi costa anche l'iscrizione e poi di comprare il kart che costa parecchio. Questo è il kart, è il trambolino di lancio che usano tutti per poi arrivare a traguardi un po' più prestigiosi. Non fantastichiamo come i vari piloti di Formula 1, però tutti nascono con il kart. Sì, tutti nascono dal 60 Super Mini, che è la categoria più piccola, e poi si passa al 100-100 e poi al 125. Cosa ti ha spinto ad avvicinarti a questo sport? Con mio padre, che mi ha fatto iniziare prima con la Minimoto, mi sono subito appassionato i motori, e poi non mi è piaciuta più la Minimoto, ho voluto provare con i kart, mi sono appassionato. Un futuro? Che cosa vedi nel tuo futuro? Fantastichiamo un po'. Guidare una Formula 1. Perché no? Dici una Ferrari, non si può mai sapere. Sì, vorrei provarci. In futuro. Invece adesso, più immediato, dicevi, c'è in programma questa corsa a Macerata, ti devi concentrare su questa corsa. Sì, mi devo concentrare perché comunque cerco di arrivare prima in campionata. Quanti anni hai? 13. Quindi vuoi fare un'ultima cosa, un appello agli altri ragazzi come te, della tua età, ad avvicinarsi a questo sport? Sì, a tutti i ragazzi, dico, a questo sport, se sono appassionati i motori, devono provare a guidare con il kart. Come devono fare? Quali sono gli step da fare? Si devono preparare, poi devono comprare i kart? Beh, prima di tutto, devono imparare le cose principali, accelerare, frenare, imparare a guidare. E poi dopo, se ti piace il kart, te lo puoi anche comprare, se sei appassionato. E poi, se sei appassionato.